Genova è un'ottima squadra sul fatto che già è una neopromosa ok, però è una grande società. E poi la cosa importante per noi, a parte aver studiato questa squadra che è solida, notamente sul piano difensivo, ricordo che hanno vinto 1-0 contro la Lazio e poi ritroverò anche con piacere un giocatore come Kevin Strotman, che sarà avversario mio domani. È una squadra che non ti dà molto. Ovviamente hanno iniziato male in casa contro la Fiorentina, giocando con il loro modulo gioco abituale, ma poi hanno cambiato modulo gioco e hanno fatto non due risultati positivi, visto che hanno vinto 1-0 con la Lazio, però hanno perso all'ultimo momento a Torino. Però si sono ripresi, diciamo. È una squadra che sicuramente dobbiamo giocare in un modo molto serio e soprattutto rispettare questa squadra nel suo stadio, che lì è sempre difficile vincere. Però andiamo lì per questo, sapendo che la parola d'ordine per noi è pensare al 100% al campionato e a questa gara. Non c'è altra gara dopo, è come se finisce il campionato a Genoa e non c'è niente dietro. Non voglio che la squadra sia altra cosa in testa, quindi concentrati al 100% su questa partita per vincerla. Darò spazio a chi lo merita e chi è pronto soprattutto. Però sì, la squadra che inizierà domani non sarà la stessa che ha iniziato contro la Lazio.